Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video Vi lascio il nome e le domande sotto Questo video si chiama Tag e fatti un selfie Allora, domanda numero 1 Immagino di essere stata una festa e abbia bevuto fino a stare male Tanto da vomitare tutta la notte Fatti un selfie che renda perfettamente l'idea di quel momento Vabbè, io sono estremia quindi Anche se ho raggi l'alcol 2. Nel cellulare hai un spazio solo per una foto Soltanto devi scattarti un selfie e mandarlo alla persona su quale vuoi fare il corpo Come te la fai? 3. Sei uno di quelle giornate in cui ti senti particolarmente sexy Fatti un selfie che mi mostri tutta la sex tu Così guarderai quelle giornate in cui ti senti bruttissimo 4. Ti rendi conto che non fai altro che fatti i selfie Ma non vuoi smettere perché però Non vuoi neanche gli altri lo pensino Quindi fatti un selfie facendo sembra che qualcun altro ti abbia scattato una foto Mentre non lo saprei 5. Hai voglia di giocare e decidi di farti un selfie Con la classica faccia bibba minchia Sai, un hacker entra nel tuo cellulare rubandoti tutte le foto Tu sei stendamente preoccupato perché sai di esserti fatto un selfie Con... 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 Conmettenti Di che selfie si tratta? Ma se questo mi guardo qua Facci così Va poi io tanto li cancello Quindi Sette Visto l'ultimo episodio Devi riscuortarti la tua protezione Quindi fatti un selfie con la faccia più pucciosa Tenesse angelica possibile E infine A questo punto Vuoi accertarti di non essere l'unico cretino A fare i selfie Quindi tagga chi vuoi Nella speranza che gli altri facciano un selfie più assurdo Allora Io faccio quelli che seguo Quindi Chiamare Disy l'ha già fatto Quindi l'ho preso da lei Easy Makeup Che sono canali piccoli Il Sema 91 che è un canale grande Blangi E tutti gli altri che seguo Su canali grandi Quindi Quindi posso fare Madina Fashion Michelinia Tiro Makeup Ma non credo che le fanno loro Tiro Makeup Non credo E gli altri che mi seguono E gli altri che mi seguono Quindi adesso vi lascio le domande Commentate Mi piace se volete Saluto i miei fan Saluto i miei fan Che mi seguono Perché ieri non li ho salutati per la festa Della pagina di Facebook Iscrivetevi al canale Come al solito Mi raccomando Mi raccomando Questo video è tutto Il tipo va sono lì Non è lì E' lato dove è stato? Sì Dove sei? Vabbè fu un misprito Era qua sotto Questo video è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao